Tanto, troppo. Mi fa venire voglia di giocare appieno questa partita, perché già l'andata è stata sia in agonia vedere gli altri 70 minuti, 60 minuti da fuori. Poi comunque sia anche la sconfitta di sabato brucia un po' per come è stata la partita, quindi speriamo di fare bene questa domenica. Il Mist ha dato la sua impronta cercando di fare un altro tipo di gioco e piano piano sicuramente stiamo riuscendo a trovare dei benefici. Speriamo di affrontarla in maniera giusta questa partita perché è fondamentale. Sono una squadra molto aggressiva, ricorda molto noi l'anno passato. Dovremmo essere almeno a livelli loro in quanto ad aggressività, poi per il resto quello che sappiamo lo metteremo in campo. I derby non hanno bisogno di motivazioni, le motivazioni vengono da soli, da sé. Sicuramente il fatto che sono qui da molto tempo rispetto ad altri ne avrò qualcuna in più, però sicuramente anche gli altri miei compagni di squadra, anche se sono arrivati da pochi giorni, pochi mesi, ne avranno sicuramente. Sicuramente sono dei professionisti, quindi sanno cosa significa un derby per i tifosi, anche per la nostra classifica, sicuramente bisogna guardare anche quella. Sicuramente è una partita che il derby va vissuto nel migliore dei modi perché è una partita bellissima da vivere, e non come quella è l'andata sicuramente, toccherà fare una partita più agguerrita e col coltello tre denti. Noi dobbiamo pensare di fare più punti possibile, se giriamo con lo stadio pieno o vuoto non ci deve interessare niente.